Bene, allora iniziamo il tempo in calza e qualcuno per la verità a causa del cattivo tempo e di malfunzionamenti di mezzi di trasporto non è ancora arrivato, però direi appunto che iniziamo perché il pomeriggio sarà oltre che interessante anche molto intenso. Quindi come commissario della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali vi ringrazio di essere intervenuti e soprattutto permettetemi voglio ringraziare i nostri amici, le nostre amiche che oggi hanno accettato di presentare questo volume. Intanto si parla di anno europeo del patrimonio culturale, anno 2018 che appunto si è concluso, ma qui c'è una serie di esperienze, di commenti e di riflessioni, tant'è vero che il sottotitolo è Visioni ortodosse e non ortodosse, quindi è sicuramente un momento di riflessione e di incontro di particolare interesse. Dicevo ringrazio gli intervenuti, in primo luogo Andrea De Pasquale che è direttore della Biblioteca Nazionale che con noi organizza il ciclo Libri Aperti e che quindi oggi in particolare è qui con noi e farà i suoi saluti dopo di me, ma soprattutto il gruppo di chi appunto innescherà la discussione, la presentazione del volume. Permettetemi, per prima Silvia Costa, per prima per oserei dire diritto di primogenitura, non saprei, però certamente Silvia Costa, onorevole Silvia Costa che in Europa tanto ha fatto per la cultura italiana, basta aprire, guardate il suo curriculum e vedete che davvero l'onorevole Costa è stata non solo parte attiva, ma parte stimolante di tante politiche e in particolare della politica culturale europea e di molti aiuti e stimoli anche per l'Italia in Europa. Io ho avuto occasione, un piccolo ricordo di conoscerla e testarla, devo dire, in profondità proprio all'apertura dell'anno europeo a Milano dove ho sentito, ho visto la sua azione in particolare anche nel concreto, quindi non solo nelle politiche, ma anche nella conversazione con un gruppo di giovani bellissima e in tanti altri momenti. Quindi grazie a Silvia, poi grazie ad Annalisa Cicerchia che è curatrice del volume, ad Alessandro Bollo, non so se sia arrivato ancora, è uno dei prigionieri dei mezzi di trasporto, Alessandro Bollo il direttore del Polo del Novecento di Torino e a Giuliana De Francesco, servizio primo del segretariato generale del ministero. Anche Giuliana? Ecco, la dottoressa De Francesco è stata advisor dell'anno, no, è stata la responsabile dell'anno europeo della cultura per conto del del ministero dei beni culturali, quindi è un parterre di persone particolarmente informate che torno a dire ringrazio e mi rivolgo agli studenti, renderanno credo il questo pomeriggio di estremamente utile anche per voi. Grazie, la parola ad Andrea Pasquale. Bene, buonasera a tutti, benvenuti alla Biblioteca Nazionale, come ha già sottolineato l'architetto Di Francesco, la Biblioteca Nazionale condivide con la Scuola dei beni culturali l'iniziativa Libre Aperti, anzi la Biblioteca Nazionale, ospita la scuola nei suoi spazi. Ci teniamo molto a questa condivisione di iniziative e anche di comunanza di luogo, anche perché la Biblioteca sta assumendo sempre più la dimensione di un vero e proprio campus della cultura, un campus che ospita studenti dell'università, studiosi, ricercatori, docenti, ma anche ormai anche tutta una serie di, cioè i nostri studenti della Scuola del Patrimonio e anche quelli del corso internazionale. Credo anche con grande soddisfazione di tutti. Ci fa quindi molto piacere anche presentare oggi il fascicolo dell'economia della cultura, che ho sfogliato con grande interesse. Devo dire che mi è venuta in mente una frase un po' particolare, così, di antica memoria. Cioè abbiamo fatto l'Italia, ora si tratta di fare gli italiani. Cioè è una frase che è stata, come sapete, ben meglio di me, pronunciata da Massimo D'Azzeglio, in cui appunto i nostri politici di un tempo riflettevano sulla necessità di dare un'identità nazionale italiana, dare un senso di popolo a un'Italia che era stata appena formata. Cioè nel senso che fatto lo Stato mancava appunto l'idea di sentirsi insieme, di essere uniti. Un'idea che è durata per tanti anni e che ha avuto in parte non del tutto concretizzazione, ma che si è basata soprattutto sull'idea di fondare questa identità sull'istruzione, sulle tradizioni, sulle feste nazionali, sulla cultura. Ora mi sembra che sia il caso proprio di riproporre questa frase cambiando il termine Italia con l'Europa. Si tratta ora di fare gli europei, non l'Europa. L'Europa si è fatta, quindi non è una frase vuota di retorica, ma è veramente la necessità, sottolinea la necessità di creare strategie per correre sentieri che indichino alle genti europee l'orizzonte, o meglio gli orizzonti al plurale per sentirsi popolo tutti insieme. Usare quindi il plurale perché in questa eterogeneità, nell'attenzione tra nazionale, singolare, europeo, collettivo e plurale, è il vero senso dell'Unione Europea. Mi fa piacere anche ricordare il motto dell'Unione Europea Uniti nella diversità, usato per la prima volta nel 2000, che sta a indicare appunto come l'Unione Europea, gli europei, siano riusciti ad operare insieme a favore della pace e della prosperità, mantenendo al tempo stesso la ricchezza delle diverse lingue, culture, tradizioni del continente. Quindi la designazione del 2018 come anno europeo del patrimonio culturale ha proprio questo scopo, ha avuto questo scopo, incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale, quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo. Quindi il fascicolo che oggi presentiamo contiene argomentazioni proprio in questa linea, riflessioni, argomentazioni tutt'altro che scontate, come rivela la curatrice Annalisa Cicerchia, qui presente nella nota introduttiva, in cui appunto si sottolinea anche nell'essico la necessità di chiamare l'anno del patrimonio, non l'anno del patrimonio culturale europeo, ma anno europeo del patrimonio culturale. Nulla è a caso. Quindi la raccolta di questi ragionamenti, di queste riflessioni di cui oggi sentiremo parlare, sono sicuramente strumenti per riflettere sui risultati, sugli esiti, gli effetti, le conclusioni e le conseguenze di quest'anno trascorso. Permettetemi solo di aggiungere, visto che Giuliana De Francesco è pure lei una bibliotecaria, mi avrebbe fatto il piacere in questo fascicolo, ci fosse pure, dove sta? Giuliana, ciao. Una riflessione, un intervento anche sul libro, sul libro che è stato sicuramente uno dei veicoli principali dell'unione delle culture. Abbiamo diversi progetti europei, io partecipo a gruppi internazionali sia in Francia che verso l'est, in Ungheria e in Romania. Ragioniamo sull'idea del libro che ha unito i popoli, ha unito le culture. Quindi auspico che nei prossimi numeri di Economia delle culture si sottolinea anche l'importanza del libro come veicolo delle idee e dei valori. grazie. Bene, allora ora chiamo la... Sì, adesso cambiamo questi... Chiamerei tutti voi Silvia Costa, Annalisa Cicerchia, Giuliana De Francesco e quando arriverà. Grazie, allora. Assolutamente, assolutamente. Allora, grazie. È il mio turno di ringraziare la biblioteca e il suo direttore, la scuola e la sua commissaria per l'opportunità che ci hanno dato. Ringraziare voi che siete venuti in questo giorno così poco stimolante, diciamo giorno in cui penso uno tanto volentieri potrebbe stare a casa sua. Ringrazio anche due persone importanti in questa sala che sono il direttore della rivista Pietro Valentino e il caporedattore Celestino Spada perché accettare di fare questo numero non era poi necessario, diciamo assolutamente scontato perché chiaramente la cosa ha comportato qualche difficoltà e qualche rischio. Siamo contenti di come complessivamente è venuto. Prendo in parola l'invito del direttore e invito Giuliana a preparare un articolo sul libro perché noi abbiamo la possibilità nelle prossime edizioni nella parte non monografica della nostra rivista di ospitarlo e quindi ci faremo perdonare perché effettivamente è un punto significativo. Vi dico poche cose perché abbiamo ospiti che ne hanno di interessanti da dire. Io voglio spiegarvi perché con Marcello li abbiamo e anche con Martina che poi è stata molto appresso a questo numero anche se non sono riuscita a convincerla. No, giustamente il numero è stato chiuso il 18 dicembre del 2018 e Martina alla quale io chiedevo dimmi che cosa ha fatto, cioè dai una visione di quello che ha fatto il ministero, giustamente mi ha detto l'anno non è finito, i conti li faremo dopo e quindi giustamente non perché appunto non sia stata desiderata però non ha contribuito. Allora perché la scelta delle persone che parleranno oggi? Silvia Costa perché Silvia porterà e vi racconterà tutta la fatica di proporre nel contesto dell'Unione il tema del patrimonio. Lo dirà lei, racconterà quanto questo anno che abbiamo alle spalle, che c'è stato, che è andato molto bene, che sembra ovvio, in realtà sia stato il risultato di una grandissima attività di convincimento, di politica con la P maiuscola, quindi questo mi sembra molto importante. Giuliana parlerà del lavoro raffinatissimo e continuo e anche massiccio che il ministero ha fatto accogliendo, interloquendo, non lo so i numeri li sai tu, un numero enorme di proposte dal basso. Quindi racconterà qualcosa, mentre Silvia ci racconterà che cosa è avvenuto oltre le nuvole in qualche modo delle istituzioni europee, Giuliana ci racconterà come il ministero si sia fatto cassa di risonanza di una quantità enorme di iniziative fatte dalle persone come siamo noi e anche dai paesi più piccoli, dalle realtà più isolate che hanno sentito proprio questo tema. Alessandro Bollo, sì, le ferrovie ce lo restituiranno perché lo davano l'ultima volta, era stato localizzato chiuso in un vagone all'inizio di termini senza poter scendere circondato dalle acque, quindi questa è la situazione. Alessandro Bollo è il direttore del Polo del Novecento di Torino che è una realtà di archivi ed è autore di un contributo che racconta quanto la memoria sia patrimonio e la memoria sia anche un patrimonio che ci imbarazza a volte, ci divide. Questo è un po' tutto il tema che abbiamo voluto raccogliere in questo numero della rivista, abbiamo voluto parlare del fatto che il patrimonio può essere anche un elemento di vergogna, di divisione, di odio, di imbarazzo. Ci fa capire che il patrimonio ricorda una testimonianza di cose che forse potrebbero anche prepararsi e riproporsi nel futuro e non sono acquisizioni date una volta per tutte. Questo è un tema che gli autori hanno messo in evidenza e che oggi i nostri ospiti sicuramente riferiranno. Io faccio un pochino il mio lavoro e vi dico invece che dal mio punto di vista che il rapporto ha questo importante anno dedicato al patrimonio con le misure, con la ricerca, con i dati. E vi dico alcune cose disordinatamente. Innanzitutto questo grazie al fatto che Silvia Costa lo ha molto incoraggiato e Irminia Sciacchitano, che è uno dei contributori che non è qui, ma è evocata anche lei, però ha spinto e ottenuto è stato preceduto da un eurobarometro. Un eurobarometro è una indagine che viene fatta velocemente su un campione molto piccolo. Noi all'Istat fanno sempre facce quando si parla di eurobarometro perché è un'indagine che viene fatta campionando mille persone per ogni Stato dell'Unione. Quindi Germania mille, Malta mille. Quindi all'Istat comincia ad arricciarsi, però ormai lo stiamo usando sempre più frequentemente. L'eurobarometro è stato un ancoraggio importante perché ci si è posto il problema prima di lanciare l'anno di capire che pensava la gente. Non vi racconto che cosa pensava la gente, se volete, io dico i miei studenti, ne parleremo molto volentieri, però il quadro ha rafforzato la convinzione che era necessario farlo. In estrema sintesi, la percezione che la maggior parte dei cittadini europei ha del patrimonio è molto locale, molto utile a capire chi sono io nel mio piccolissimo mondo, ma con grandi difficoltà a capire che vuol dire europeo. Quindi un grande lavoro da fare in questa direzione. Seconda cosa interessante, c'è un articolo qui dell'Università di Newcastle di Chris Whitehead, un altro che doveva essere qui con noi ma poi non siamo riusciti a prendere per i suoi programmi complicati, che ha fatto uno studio su tutti i progetti in Horizon 2020, cioè i progetti di ricerca e sviluppo che si stanno facendo fin qui in Europa, sui temi del patrimonio. Quindi una profonda analisi di quanto di ricerca, sviluppo, nuove tecnologie, innovazione, tutti i temi di cui parliamo con i ragazzi continuamente, si siano attivati su questo argomento. E' molto importante il quadro quantitativo anche che presenterà Giuliana Di Francesco perché in numeri ci dirà quanto è stato fatto. Si è speso poco, tutto sommato, l'impegno, ma questo per dirvi che non c'è sempre una corrispondenza tra quanto puoi fare e quanto puoi investire e la generosità della risposta di una grande quantità di soggetti diversi. Questo lo dirà Giuliana. A me restano da dire due cose. Adesso noi, voi, abbiamo davanti un impegno molto grande. Uno, essere più preparati, più seri, e qui ci sono esponenti autorevoli dell'Associazione per l'Economia e della Cultura, per esempio, ma anche altri cultori di queste discipline, bisogna lavorare seriamente sull'impatto. Bisogna affinare gli strumenti con cui capiamo quali sono stati i risultati ottenuti, quelli che si volevano ottenere e quelli che si sono ottenuti. Qui c'è ancora molto da fare, cioè da sviluppare strumenti nuovi, dotarci di tecniche più affilate e convincenti. Ci dobbiamo quindi adoperare per studiare. E permettetemi così, movimento finale proprio per i miei studenti in particolare, ci dobbiamo preparare per gestire. Perché tra le attività che richiedono la maggiore competenza, che nel passato forse hanno risentito maggiormente di vuoti oppure di visioni non perfettamente adeguate, c'è il tema della gestione. C'è il tema di utilizzare, come diciamo molto spesso, le risorse che abbiamo a disposizione per consegnare i valori a chi userà i nostri beni oppure godrà dei servizi che metteremo a disposizione. Quindi grazie. Lascio quindi a Silvia la parola e grazie a voi per l'attenzione. Bene, grazie. Veramente è un piacere essere qui oggi in questa meravigliosa biblioteca. Ringrazio molto il direttore Pasquale, ringrazio moltissimo naturalmente l'archito Carla di Francesco, anche le parole assolutamente non meritate che lei ha detto e soprattutto per il lavoro che ha fatto e per chi ho visto da vicino il nascere e il crescere, questa esperienza della fondazione che penso faccia onore al nostro paese e che spero che abbia veramente uno sviluppo ulteriore e già la presenza di tanti giovani sia del corso di Annalisa, che ringrazio molto Cicerchia, sia anche della fondazione, dice che anche questo mescolamento è molto importante, che su questi temi c'è un interesse crescente. Naturalmente anche io vorrei complementarmi con l'associazione e la rivista di Economia della Cultura, quindi vedo qui Pietro Valentino che si nasconde sempre laggiù, ma vi giuro che c'è. Tra l'altro io di fronte a loro mi sento, insomma, a escluso le cose, loro sono i veri professori e poi naturalmente Celestino Spada, Carla Bodo, insomma, le ringrazio. E se potete, posso salutare almeno alcune amiche che hanno anche dei ruoli importanti, come ovviamente Martina De Luca, poi vedo Paola Orsi, ho scoperto che stava qui, si era intanata, non lo sapevo, non mi ricordavo più che eri arrivata alla fondazione e insomma persone con le quali abbiamo condiviso un bel percorso. Credo che questo anno sia stato non una, diciamo, vittoria di qualcuno, ma un esito, un grande gioco di squadra, che io rivendico, vero Giuliana, che abbiamo fatto in questi anni, forse questa è stata un po' la novità, dico subito per presentarmi un momentino. Io sono stata dieci anni in parlamentare europea e i primi cinque anni è sempre nella Commissione Cultura, Educazione, Politiche Giovanili, Audiovisivo, Informazione e Plurismo dei Medi, che è una grande questione. Siamo occupati anche delle direttive dei servizi medio-audiovisivi, perché poi c'è anche tutto questo tema, naturalmente tutto l'incrocio col digitale è ormai fatale e penso che negli ultimi cinque anni in particolare, ma preparato un po' nel tempo, c'è stata veramente, si può dire, direi una vera svolta e questo lo riconoscete anche nel volume, in particolare penso al saggio di Ermina Ciacchietano, che è stato un altro punto di riferimento assoluto, vi assicuro non si può dire in Europa molto questo, ma c'è stata una squadra italiana orizzontale a rete che spesso non era ben capita dagli altri, che ha fatto veramente la sua parte, fra Parlamento, Commissione Europea, Ministro MIBAT e associazionismo culturale europeo o anche istituzioni, istituzioni culturali anche con collaborazione importante del CNR e delle università. Cioè in sostanza abbiamo capito, io non ho fatto le politiche italiane in Europa, vorrei fosse chiaro, io ho cercato con gli altri, come il mio dovere, di far crescere la dimensione culturale, diciamo anche educativa, che è sempre più connessa, e della ricerca nell'ambito appunto di un progetto europeo che a mio giudizio negli ultimi anni, anche dopo la grande crisi, rischiava di smarrire, si è detto prima, lo diceva lei, il senso di appartenenza, l'identità, addirittura si è messo in discussione il progetto europeo politico, e io penso che uno degli errori sia stato quello di avere molto, di essere stato molto sbilanciato, forse per forza di cose, sul fronte economico, finanziario, e più gestionale, e perdendo un po' di vista, che l'anima dell'Europa rischiava di assottigliarsi troppo, e di non essere più identificata, e poi smentiti dai fatti, perché i fatti dicono che la grande aspirazione dei giovani non è, io non penso che i giovani siano euroscettici, i giovani sono euroimpazienti, e vogliono sapere che l'Europa è veramente un grande spazio, una grande opportunità, una grande possibilità di sviluppare la propria personalità, di avere un dialogo sempre più ampio, e di avere delle opportunità, diciamo, alla pari come cittadini europei. Quindi c'è stato anche un po' un misunderstanding, insomma, fra quelle che erano movimenti, che giocano sul sovranismo, nazionalismo, sul soffiare sempre sul fuoco, e ritenere che ormai i cittadini europei avessero perso di vista il progetto europeo. Io penso che questo non è esattamente così, però certamente c'è stata una fase nella quale noi abbiamo capito che la dimensione culturale educativa e di solidarietà rischiava di smarrirsi. Questa è la ragione più, chiamiamola nobile, per la quale abbiamo pensato appunto cinque anni fa. Devo dire che la cosa è maturata soprattutto durante la presidenza italiana, che ha fatto la differenza, perché hanno approvato tra l'altro il piano di lavoro triennale nel 2014, ma il Parlamento e la Commissione Cultura, di cui in quella vicenda ero anche presidente, ha fatto penso la sua parte. Però una parola, scusate, sulla rivista. Io perché poi penso che voi la leggerete, mi auguro, e comunque, insomma, siamo qui a buongiorno, come stai? Ciao, 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 c'è c'era di rivederti. Ciao, ciao. Diversa veste. Saluto naturalmente, dottor Bollo. Mi è spiaciuto molto, scusate, una piccola digressione. In quest'ultimo numero della rivista, e vi faccio i complimenti a te che l'hai coordinato, e agli autori, secondo me ha affrontato alcune tematiche, che mi sono letta con molta attenzione, che sono esattamente una parte significativa di quelle che ha sviluppato la riflessione che è nata dentro l'anno europeo del tema agricolturale. Perché noi abbiamo fatto di questo anno un anno un po' speciale. Intanto una prima battaglia, così la diciamo raccontandola. La prima è stata quella di averlo questo anno, perché è stato detto di no all'inizio, dalla Commissione Europea. Non vi faccio poi retroscena, li scriverò un giorno, come si dicevano i protagonisti, non ci saranno più, e posso parlare male di loro. Insomma, non vi sto a dire, ma c'è stata qualcosa di abbastanza interessante. E perché basta questi anni europei? Avete visto che non c'è stato più un anno europeo matematico? È stato l'unico? Beh, questo vuol dire che abbiamo fatto una battaglia, che qualcuno si è convinto, che andava fatta. Secondo, noi abbiamo detto che l'anno non doveva concludersi con l'anno. L'anno deve avere una legacy, una continuità, un follow-up, un'eredità, che potesse, e quindi fare di questo anno, impostare l'anno europeo come un'occasione per essere, come dire, una sorta di catalizzatore e di rilancio di tutte le policy culturali che stavamo mettendo in piedi da qualche anno con molte difficoltà, ma che cominciavano ad avere a questo punto una struttura un po' più delineata e un'integrazione. Perché l'anno è la risposta anche a una frammentazione. Perché guardate, l'unità nella diversità è straordinaria. La diversità culturale è una ricchezza, è lo specifico, è il modello sociale europeo, che non è omologazione culturale, ma se poi i linguaggi, dal punto di vista anche, per esempio, la raccolta dei dati, degli indicatori, dell'importanza di analizzare in modo trasversale le politiche e dell'impatto che hanno sulla cultura, sull'educazione, sullo sviluppo delle persone, il fatto di avere, diciamo, un po' lo stesso tipo di approccio per quanto riguarda il valore stesso del patrimonio, la qualità negli interventi e nelle competenze di chi interviene sul patrimonio, la concezione del patrimonio culturale non è solo materiale, ma è anche immateriale e ormai digitale, mettere a fattore comune il fatto che oggi bisogna investire in alcune, diciamo, strategie che sono anche molto importanti, anche dal punto di vista della risorsa che è il patrimonio culturale, pensiamo all'Europa e che è anche il paesaggio, di cui si parla sempre molto poco, perché il tema in Europa è molto più la natura e l'ambiente, il paesaggio è un timbro molto italiano, il paesaggio c'è in Europa, ma la concezione giuridica che ha la nostra Costituzione e la nostra legislazione sul paesaggio, voi sapete che è molto più avanti di altri paesi e penso che abbiamo un po' contagiato anche altre discipline, anche legislative e giuridiche di altri paesi. Il paesaggio è qualcosa che prevede una sintesi e una reciproca interazione fra uomo e natura e questo credo che porti anche a una concezione che poi viene anche dal nostro rinascimento, insomma, c'è dentro molta cultura nel tema del paesaggio. Il patrimonio è fatto anche di eredità civiche, ma anche di eredità religiose, ora c'è un grande tema del patrimonio religioso, che atteggiamento abbiamo rispetto a questo, c'è la grande sfida della multireligiosità e della multiculturalità, insomma, tutto questo è un tema che è sullo sfondo e mi piace che nei vostri diversi saggi questi temi siano stati affrontati come anche quella del cosiddetto patrimonio controverso, adesso la lascio lì come battuta, il patrimonio non è solo unitivo, perché la diversità culturale dov'è che può unire l'Europa? Quando l'Europa, perché si è evoluta in Europea? Per dire mai più alla guerra, tanto per cominciare, e per dire che la dignità della persona è l'asse su cui si costruisce una nuova alleanza di paesi che sanno benissimo che sono stati lacerati da guerre, da devastazioni e invasioni, ma che vogliono mettere a fattore comune dei valori che dolorosamente, ma alla fine un po' profeticamente, abbiamo messo nel, abbiamo metabolizzato e abbiamo capito che senza quelli c'è la distruzione, c'è la non convivenza, non c'è la coesione sociale, non c'è lo sviluppo delle persone. Questo è il dato. E guardate, che a mio giro, e finisco con la premessa un po' generale, che la Brexit è sicuramente uno shock anafilattico, ma guardate che è stato anche un detonatore per capire che cosa si perde, si perderebbe. Noi abbiamo dato molto per scontato, forse le nuove generazioni danno per scontato, che non ci siano le frontiere, ma quando mai le hanno viste, che ci sia una moneta unica, forse siete nati con quella, che ci sia la possibilità di. Io ho avuto 10.000 lettere, mail, da ragazzi, da studenti, quando rappresentano la Commissione Cultura, che inglesi, britannici, ma anche continentali, che dicevano, ma succederebbe, cosa succederà, della possibilità di partecipare a Erasmus, di partecipare a Europa Creativa, di partecipare a Horizon. Allora, noi abbiamo visto il dramma di questa scelta, che noi rispettiamo, perché è una scelta libera di un popolo, ma che ha messo in discussione, e oggi noi vediamo quale sia la consapevolezza di questo. Quindi questo patrimonio comune in realtà c'è molto più di quanto noi stessi immaginiamo, non è fatto soltanto di, diciamo, bellezze paesaggistiche o di edifici, ma è fatto anche di questo grande patrimonio, di messa in comune di un destino, di una prospettiva, di una volontà di stare insieme. Quindi, seconda grande questione, noi abbiamo capito anche che oggi, e questo naturalmente grazie anche agli studi, io penso che tutto il lavoro fatto anche dall'Ista di Guardate, riconosco molto il lavoro fatto in particolare dal BES, quando voi facete gli indicatori di benessere, che fu l'Ista, fu uno dei primi e andò più avanti, tu lo racconti nel tuo saggio, dove finalmente si sono inseriti i criteri, gli elementi culturali, e della creatività, come elementi che fanno parte di una lettura del benessere, e dell'indice di benessere che va oltre il PIL. Questa cosa che sembrava acquisita, non crediate anche lì che sia stato molto facile l'esito, perché quello è del 2010 addirittura, poi rivisto fino al 2017. Ebbene, se andiamo a guardare nei famosi goal del millennium, la parola cultura semplicemente non c'è, sì, tre volte sì, ma dico non c'è, c'è del, sì, non si può non dire ogni tanto la parola cultura, non c'è come strategia, non c'è come testa, e devo dire purtroppo che nei 17 amatissimi obiettivi, come si chiamano, sì, ecco appunto, dei goals, insomma, dello sviluppo sostenibile, la parola cultura non c'è. Allora, come vedete, si ricomincia sempre da capo, eppure oggi diciamo che il patrimonio culturale è soprattutto conoscenza, educazione, accessibilità. Noi siamo molto affezionati a una scuola di pensiero che dice che la cultura è il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, perché se non c'è l'accesso alla conoscenza, se non c'è la conoscenza del patrimonio, se non c'è la pratica per fare il nuovo patrimonio, la pratica artistica culturale, la cultura non si rigenera, sarà un problema di sostenibilità o no questo? Diciamo che la cultura e il patrimonio culturale è una risorsa di appartenenza, di partecipazione e di inclusione. Diciamo che oggi è il rapporto fra partecipazione culturale, capacità di innovare le proprie competenze e soprattutto la salute, oggi sta diventando un tema quasi diciamo un must, pensiamo che oggi i territori la competitività non è fra imprese ma è fra qualità dei sistemi territoriali dove i servizi culturali, educativi eccetera fanno la differenza fra un territorio e un altro, è un fattore di resilienza, è un fattore di benessere insomma personale e sociale, soprattutto diciamo come diceva prima Annalisa che c'è oggi una grande questione che ci interroga come fare a rendere sostenibile la gestione del patrimonio culturale in termini finanziari in termini ambientali basti pensare al turismo e delle città d'arte penso anche al tema purtroppo naturale ma penso anche al fatto del rapporto pubblico privato grande spazio si è dato in questo anno a tutto il tema e ricordo della gestione pubblico privato della gestione pubblico privato partecipativa in cui i cittadini possono partecipare attivamente e penso anche alla grande novità che è stata la convenzione di Faro a cui l'Italia finalmente il senato ha votato la ratifica insomma siamo quasi alla ditura di arrivo che ha praticamente fondato diciamola così è molto semplice un nuovo diritto un diritto al patrimonio del cittadino e una responsabilità delle comunità nei confronti del patrimonio tutto questo vuol dire riconoscere il valore fortissimo di questo ma c'era bisogno di un anno io dico proprio di un anno dedicato e di un fuoco e di un acceleratore per poter mettere tutto questo a sistema come si è andati avanti su questa questione tra l'altro scusate voglio dire che l'Italia ha fatto anche un passo avanti interessante sull'educazione al patrimonio di cui questa è una delle eccellenze ma anche come è fatto si è recuperato un po' rispetto all'abbandono che c'era stato non abbastanza però della storia dell'arte ancora abbastanza ma anche di educazione al patrimonio come parte integrante dell'educazione e le nuove competenze chiave che prevedono anche il tema della creatività dell'espressione culturale artistica eccetera quindi in questo senso noi abbiamo un problema che un obiettivo avevamo che unire il rilancio del progetto politico europeo con il rilancio di una nuova strategia sul patrimonio culturale che oggi è sottoposto a molte nuove sfide pensiamo perciò che sia stato intelligente lavorare su quattro assi in questo anno i quattro assi sono la tutela la partecipazione quindi non essere spettatori ma essere partecipazione attiva l'innovazione pensiamo non è soltanto tecnologica come pure ma nello stesso saggio che ho letto parli per molto del fatto dell'innovazione anche sociale e della sostenibilità e affrontando anche il tema di come diciamo per quanto riguarda e di come esprimere in politiche più specifiche questa nuova attenzione nell'anno del patrimonio noi abbiamo come dire messo a punto ma l'abbiamo cominciato già un po' prima le tre direi grandi direttrici forse le quattro che hanno visto in questi ultimi anni delinearsi finalmente una vera strategia culturale europea su questo però è più giovane a chi non lo sa o a chi lo sa poco o a chi non si è molto interrogato su questo perché non è una cosa così nota sappiate che tutte le volte che si chiede ma quali sono le competenze europee per la cultura anche questo è un tema che si pone quando le volte si dice dove deve fare l'Europa oppure l'Europa non deve entrarci voi sapete che questo è un regime di sussidiarietà ovvero la diversità culturale e linguistica è un bene da tutelare da promuovere ma le politiche culturali europee possono integrare gli stati questa è la novità introdotta dal Trattato di Lisbona nel 2010 laddove questo serva per sviluppare di più le politiche culturali anche nazionali ma c'è un diritto di intervento l'Unione Europea o direi anche un dovere nel tutelare e promuovere il comune patrimonio culturale europeo quindi è entrato giuridicamente in qualche modo anche se è ancora molto discorso dai docenti e dai giuristi un concetto che non è che scavalchi i patrimoni locali e territoriali ma che li tiene in qualche modo in una cornice su cui si può intervenire oltre naturalmente noi abbiamo anche un altro dovere che è quello di regolare per esempio quella che è non so la circolazione corretta dei beni culturali pensiamo alla direttiva che abbiamo fatto contro il traffico dei beni culturali pensiamo alla grande esplosione purtroppo nell'anno 2015 noi facciamo una risoluzione importantissima in Parlamento Europeo che ha aperto un po' anche la strada al tema del patrimonio che io vogli fortemente in cui ci siamo pronunciati perché fosse considerato un crimine contro l'umanità la distruzione intenzionale del patrimonio culturale nei conflitti non è un accessorio cioè non è un come si dice un incidente di percorso di ogni guerra no è stato scelto scientificamente voi lo sapete questo è stato un elemento che ha fatto nascere una volontà nata dall'Italia soprattutto che aveva la presidenza anzi era già la fine della presidenza di dire mettiamo a fattor comune una task force europea che possa intervenire i famosi caschi blu della cultura sapete quanti paesi hanno creato i caschi blu nessuno solo l'Italia attualmente i caschi blu della cultura che dovevano essere una forza presso l'UNESCO fatta tutti i paesi eccetera noi abbiamo insistito tremendamente non c'è stata una grandissima accoglienza pur nonostante il grandissimo evento che c'è stato a Milano no vi ricordate all'Expo allora quali sono le quattro linee diciamo di politiche culturali che in questo anno hanno visto anche la luce maggiormente primo noi abbiamo un programma dedicato voi sapete alla cultura in Europa con quella spirito che vi dicevo prima che si chiama Europa Creativa di cui sono stata relatore sia nei primi sette anni che adesso per quei prossimi sette anni cosa abbiamo ottenuto finalmente anche dopo l'anno che si sia rafforzato lo stress sono due strand cultura e audiovisivo diciamo grosso modo ecco la cultura era abbastanza fragile poche linee pochi soldi adesso noi possiamo dire che questo anno ha fatto capire che non possiamo non andare più nel dettaglio quindi ci sarà adesso nella parte cultura dell'Europa Creativa la linea musica la linea patrimonio culturale naturalmente come innovazione accessibilità audience development eccetera la linea design e anche altri aspetti innovativi della cultura e imprese culturali e creative so che voi state su questo tema l'altra e abbiamo chiesto fra l'altro il raddoppio dei fondi per i prossimi sette anni questa è la battaglia che sta facendo in questi giorni la commissione nuova è stata nominata oggi parentesi grande vittoria di tutti noi la squadra direi sempre insomma molti di noi ci hanno lavorato in prima persona abbiamo ottenuto che il titolo del portafoglio della nuova commissaria Gabriele è una bulgara tra l'altro una donna molto molto in gamba non sia genericamente innovazione ai giovani che posso dire non vuol dire nulla ma finalmente recupera la filiera fondamentale che prima non era in filiera educazione cultura ricerca e giovani questa è una grande vittoria attrazione italiana ci tengo a dirlo la cosa interessante è che il nuovo programma di Europa Creativa ha messo in evidenza un tema un problema che c'era e che si è abbiamo fatto una grande debate e l'abbiamo ottenuto noi abbiamo sì Erasmus ma non abbiamo poi un programma di mobilità europeo internazionale per artisti creativi professionisti non necessariamente durante il periodo formativo è nato si chiama I Portunus datelo a vedere siamo ancora un po' i primi vagiti però già un po' di ragazzi non ragazzi per chiunque giovani adulti allora Portunus vi chiederete perché ma da romana vi dico subito che invece è una bellissima cosa io ho detto ma che aveva un nome mi diceva un nome come fosse Erasmus allora avevo suggerito Sofia Hermes nessuna poi vedo Portunus dove se lo sono preso Portunus andate Tempio di Vesta accanto c'è un piccolo meraviglioso perfetto tempietto che si è Portunus perché Portunus ditelo a qualcuno che poi capite a chi lo dico che e vigila tutela i porti aperti e gli scambi e lì sotto c'era il porto di Ripetta quindi cominciamo a dire di Ripa Grande anzi secondo l'altra linea che è andata avanti in questo anno cioè questo anno è stato catalizzatore perché molti progetti sono andati su quel punto lì è stato l'industria culturali le imprese culturali e creativi a proposito non chiamiamole mai nella traduzione italiana industria perché impresa perché impresa comprende tanti altri campi compreso il terzo settore e perciò io ho sempre stato molto attenta invece cercano sempre noi abbiamo su questo un ritardo italiano ma penso che lo colmeremo e significa un ambito appunto innovativo digitale e qualificato nel quale si sta investendo per la prima volta altro punto importante nel programma che si chiamerà Horizon Europe non più Horizon 2020 c'è un cluster dedicato al patrimonio culturale e anche all'innovazione culturale questo vuol dire risorse bandi specifici oltre a essere negli altri l'altro punto importante di cui sono stato anche relatore insieme al collega Brock nella commissione esteri e che per me ha uno sviluppo deve avere uno sviluppo straordinario speriamo che ci creda il nuovo commissario è quella delle cosiddette relazioni culturali internazionali guardate questa è di grande importanza perché significa che finalmente l'Europa sarà più attore se vuole essere attore globale deve avere anche una capacità di rafforzare le relazioni culturali educative ricerca con altri paesi quindi Europa mondo e anche assistito sia da una piattaforma che suggerisce anche insomma che agevola queste cose ma anche dall'Eunic ve lo segnate volamente l'Eunic è la rete di tutti gli istituti culturali europei quindi non più soltanto bilaterale Italia verso ma è anche questo in una logica di people to people e di circolarità delle relazioni e l'altra questione importante è quella di avere fatto durante questo anno un'esperienza molto molto innovativa di governance questo ci tengo molto a dirlo in cui c'era anche Giuliana allora qual è il punto noi abbiamo chiesto questo è stato direi un successo molto del Parlamento noi abbiamo chiesto che non fosse una gestione solitaria e verticistica l'anno europeo c'è un piccolo comitatino se lo fa la commissione avverte gli stati membri fate ognuno fate qualcosa no abbiamo chiesto tre cose che fosse trasversale dal punto di vista delle discipline all'inizio dicevano ma chi verrà mai a occuparsi chi verrà a metterci dei soldi a fare qualche iniziativa sull'anno europeo delle altre direzioni generali solo la DG cultura ed educazione non è vero niente alla fine c'è stata una gara fra le altre direzioni e ben 14 direzioni generali sono venute a dire anche noi abbiamo il nostro anno europeo vogliamo fare questo quindi il cui pochi soldi 8 milioni di euro erano 4 che ha messo il Parlamento dell'Europa si sono aggregate altre dalla direzione generale mare che ha messo il patrimonio subacqueo e le isole sottomarine fino alla direzione di ricerca alla direzione digitale per la prima volta c'è stata a Bruxelles una conferenza di alto livello fra i tre commissari che non si parlavano molto prima ricerca digitale e cultura educazione e tra l'altro su tutta la tematica di come la digitalizzazione la realtà virtuale la realtà aumentata poi queste cose lui è l'esperto come si chiama l'intelligenza artificiale eccetera incroci la nuova offerta fruizione domanda di cultura e quindi il patrimonio può essere un grandissimo acceleratore di innovazione e di inclusione nuova anche delle nuovi linguaggi l'altra cosa interessante è che a questo tavolo di governance c'erano fatte selezionate con una call quindi con un bando quante erano mi ricordo le associazioni le reti 30 reti delle varie discipline della cultura quindi c'era da Europa nostra alle sale alle conservatori al cinema eccetera e questo è stato un fatto importante e poi c'era il Parlamento per la prima volta noi abbiamo fatto parte della governance questo ha significato che anche noi come parlamentari abbiamo fatto tutta la nostra azione anche negli stati membri quindi è stato un grande catalizzatore cosa lascia l'anno europeo patrimonio cosa si è fatto durante lo dirà Giuliana e non solo per l'Italia ma perché poi molte cose erano fatte transnazionali perché noi abbiamo preteso anche che avesse una dimensione europea e non solo nazionale qual è il rischio un po' c'è stato diciamocelo c'è stato anche il rischio che ognuno si è decantato il proprio ma alla fine devi anche far conoscere il proprio magari è stata un'occasione ma quello su cui abbiamo spinto moltissimo è la natura transnazionale delle dieci tematiche individuate e degli eventi che sono stati sostenuti sono stati sostenuti circa 29 progetti con questi fondi transnazionali ma pensate anche soltanto al patrimonio storico vi faccio due esempi uno è stata la cosa delle cineteche europee che si sono messe insieme e hanno raccontato la grande guerra vista da paesi che se le erano date e con occhio diverso attraverso il cinema dei loro paesi è stato un'occasione di un dibattito importante che non è irenico è di recupero di una memoria e di capacità di mettersi nei panni e di capire ecco le ragioni gli uni e gli altri secondo faccio esempio quando c'è stata una me ne sono dimenticato mi sono dimenticato mi verrà mi tornerà però insomma era la storia del disfarsi diciamo del grande impero austro-ungarico e di tutto quello che è stato vissuto da quei paesi rispetto ai paesi che si consideravano invasi fra cui il nostro ci sono state anche delle occasioni di grandissimo dibattito culturale storico importante perché va anche recuperata questa dimensione dialettica come io penso che ci sono state delle cose interessanti fra est e ovest dell'Europa e ne hanno gran bisogno perché insomma non c'è molta coine cosa ha lasciato dicevo quindi dieci tematiche e un'agenda europea per la cultura nonché un piano di lavoro della commissione sull'anno patrimonio quindi ci sarà ci sono due grandi impegni agenda europea della cultura che ha rinnovato quella che era del 2007 quindi noi siamo finalmente a un'agenda che parte dal 2018 e che va per i prossimi immagini dieci anni e che ha cinque pilastri il cultural heritage per una Europa scusate no il piano delle azioni dell'Europa su patrimonio culturali ha cinque pilastri che sono il cultural heritage per una Europa inclusiva questo è un grande tema che poi va sviluppato insieme e nei paesi e all'anno transnazionale e che comprende molte cose dalla mappatura di metodi e strumenti di educazione al patrimonio nelle scuole o dell'educazione non formale di come ampliare il pubblico e la particione dei cittadini alla digitalizzazione del patrimonio pensate che solo il 10% del patrimonio culturale europeo è digitalizzato io mi dico ma si parla tanto di PON adesso dico una cosa che fuori non concordata con nessuno i PON nazionali ma non potrebbero servire per darsi un obiettivo settennale di dire io entro quella data voglio digitalizzare X del patrimonio che diventa una cosa enorme in termini di possibilità di occupazione di turismo culturale di innovazione di ricerca e poi come diceva prima scusami l'analisa sono stati in questo periodo dati anche 66 milioni aggiunti per la ricerca e progetti innovativi del cultural heritage e un'altra cosa scusate che abbiamo posto noi a Venezia dove c'è stata una delle 10 iniziative trasnazionali durante l'anno è stata quella della qualità e io ho detto perché guardate le direttive nell'ameo culturale ci si va con i piedi piombo giusto quella per i beni culturali per il traffico illecito quelle che regolano alcune cose ma per il resto è solo raccomandazioni indirizzi noi dobbiamo essere un po' più furbi secondo me e cominciare a parlare del fatto che esiste anche un problema di mercato interno e io posto questa questione che poi è diventato un tema che è stato sviluppato e sarà probabilmente oggetto di qualche intervento noi abbiamo un mercato interno che nell'ambito del restauro per esempio e dell'intervento sul patrimonio non è è molto sbilanciato perché siccome i bandi sono europei ma non tutti i paesi hanno delle regole così stringenti su chi può intervenire sul patrimonio quale competenza e quali imprese ci sono dei paesi in cui le imprese possono fare qualunque cosa allora io penso e questo tornerà poi a favore di chi ci ha più lavorato chi ha più eccellenza che la qualità cioè prevederlo come fatto di mercato interno il fatto di definire degli standard di qualità per poter entrare interregere sul patrimonio capite bene che qui si apre un altro tipo di discorso l'Europa sostenibile quindi c'altro a lei c'è l'Europa sostenibile non diciamolo adesso in questo momento in Italia che abbiamo quel problema che sappiamo sia a Venezia che altrove e anche il tema di trovare nuove competenze per esempio nel management del riuso di edifici che vale molto anche nel patrimonio religioso un grande tema affrontato con l'UNESCO a Parigi durante l'anno e poi il tema dell'Europa resiliente e cioè sulla capacità per esempio di fare di questo rendere più resiliente il patrimonio faccio un esempio tutto il tema dell'energia per questo dico interdisciplinare tutte le competenze dove intrecciare il patrimonio culturale per esempio il tema del risparmio energetico pensate risparmio energetico barra musei barra biblioteche eccetera allora noi dobbiamo cominciare a mettere dei focus su questi aspetti che sono comuni pensate anche che abbiamo evocato anche e adesso è a bordo anche lo satellite europeo Copernicus ricordate Copernicus adesso ha nella sua missione che non aveva il tema del monitoraggio preventivo del patrimonio non soltanto europeo ma internazionale per segnalare quando ci sono dei danni o delle possibili attacchi eccetera chiudo sì lo so lo so l'altra cosa importante è solo questa vi dico finale è questa e poi se volete altre informazioni ve le do la questione dell'approccio globale cioè in sostanza questo tema che non voglio chiamare diplomazia culturale perché sembra solo in un senso sembra un po' solo il soft power in funzione di altro però c'è anche quella dimensione vi faccio due esempi per esempio il tema saranno rafforzate le reti internazionali e sul fronte dell'alta formazione e sul fronte del cultural heritage e della ricerca per esempio ci sarà una linea più dedicata del Horizon alla cooperazione verso paesi terzi per quanto riguarda la cura la tutela e l'aiuto nell'ambito del patrimonio culturale beh noi abbiamo competenze expertise si tratta di aprire e questo apre apre anche possibilità di lavoro e di cooperazione e dall'altra tutto il tema per esempio della della dimensione europea dei luoghi della cultura io richiudo con questo esempio nell'Europa creativa abbiamo messo per la prima volta un accenno che molti non hanno capito perché non è ancora sviluppato mi ripromettevo poi di chiedirlo nel tempo ma ci stiamo lavorando con l'EUNIC in tutte le città europee dovrebbe scusate in tutte le capitali cominciamo da quelle europee che hanno gli istituti di cultura di tutti i paesi lì dovrebbero nascere biblioteche europee allora a Roma c'è un tentativo che voi sapete il Goethe con le biblioteche di Roma è interessante vabbè intanto c'è in altri non c'è allora io penso che noi dobbiamo moltiplicare i luoghi della fruizione culturale europea e non solo nazionale e non è tutto digitale deve essere sostenuto anche dagli strumenti ma deve essere luoghi in cui tu incontri scrittori di altri paesi è un aiuto a fare delle traduzioni a ragionare con altri e io sono andata a vedere quella biblioteca tutto sommato è molto interessante perché è un'università popolare aperta a tutti ma ci sono continuamente opportunità e noi abbiamo una dimensione internazionale per esempio della città che a mio giudizio usiamo pochissimo troppo poco e che invece potrebbe aprire delle opportunità anche di progettazione europea questo mi chiudo su questo i temi erano molti di più le cose che vorrei dirvi non erano molto di più ne ho gette troppe però vi mando così una punizione l'intero intervento che ho preparato poi la passione mi travolge grazie grazie mi dispiace che io poi oltretutto non sono capace ad esercitare con mano ferma però insomma le informazioni erano moltissime rimangono delle questioni che poi ti manderemo faremo un incontro magari con i nostri studenti perché c'è un po' di difficoltà di accesso per loro a queste cose in realtà in quanto singoli magari un giorno ne parleremo do la parola a Giuliana Di Francesco sì perché è molto importante capire a seguito di tutto questo impegno che cosa come hanno risposto i paesi come ha risposto il nostro paese in particolare allora io innanzitutto ringrazio la fondazione la scuola per questa iniziativa e ringrazio Economia della Cultura il direttore della biblioteca che ci ospita e è veramente una bellissima occasione per riflettere su quello che abbiamo fatto durante il 2018 che abbiamo fatto di corsa consegnando a valle della furia insomma con cui si sono svolte le attività dai report ma senza mai avere davvero un'opportunità di riflessione e di comunicazione dei risultati la riflessione non ho avuto il tempo di prepararla in profondità però sono molto lieta di riferire sui dati quanto meno e poi se avrò tempo magari reagirò a qualcuna delle tante sollecitazioni che sono avvenute finora allora anno europeo del patrimonio culturale in Italia è già stato ripercorso più o meno il quadro in cui ci siamo mossi in estrema sintesi la battaglia che è vero è stata corale di tutte le componenti istituzionali e della società è di molti paesi l'Italia in primis però la Germania ha anche svolto un ruolo importante è durata a lungo però la data per l'anno europeo è stata fissata fin dall'inizio per una serie di ragioni anche storiche il centenario della fine della guerra dell'indipendenza di una serie di paesi europei eccetera quindi scusa non volevo era un attacco è giusto ok perfetto sottotitoli in tempo reale anche no questo cosa ha significato che noi per quasi tre anni dalle conclusioni del consiglio adottate sotto presidenza italiana novembre 2014 quando si chiedeva alla commissione di prendere in considerazione l'ipotesi di lanciare un anno europeo del patrimonio culturale al maggio 2017 quando finalmente la decisione è stata presa ci siamo concentrati su tutte le possibili mosse per riuscire ad ottenerlo e poi abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararlo e per gestirlo e questo ha avuto una serie di conseguenze indesiderate però insomma in qualche modo ce l'abbiamo fatta con molti costi anche personali ma ce l'abbiamo fatta un'altra cosa che volevo dire è che tanto in Italia che è nella stragrande maggioranza degli altri paesi europei si è tenuto insieme a livello nazionale e quello europeo che sia stata la stessa persona che siano state due persone diverse a coordinare l'anno e a rappresentare il paese nei contesti europei in primis questo coordinamento trasversale della commissione queste persone hanno sempre proceduto affiancate quindi questo ci è servito molto a come dire riuscire a comprendere i valori i principi contenuti e a riproporli e a cercare di far vivere questa decisione sull'anno europeo per riuscire a assegnare il marchio dell'anno europeo impresa che è stata molto più impegnativa di quanto pensassimo abbiamo costituito a livello nazionale un gruppo di lavoro di cui Martina De Luca avrà sicuramente dei ricordi molto vivi un gruppo di lavoro in cui ci siamo trovati a lavorare tra persone con competenze diverse quindi bibliotecari architetti archivisti storici dell'arte insomma ma anche con una diversa idea di Europa un diverso contatto con il contesto europeo un diverso livello di apertura agli aspetti più innovativi e questo ha portato a interessanti interlocuzioni in merito alle assegnazioni di alcuni marchi per tornare alla secchezza e all'aridità dei dati abbiamo ricevuto circa 1835 domande di assegnazione del marchio siamo stati abbastanza inclusivi nella nostra assegnazione l'abbiamo dato a 1365 iniziative da questo conto sono state escluse sono escluse le giornate europee del patrimonio 2018 che sono state interamente dedicate all'anno europeo che è questo tema dell'anno europeo e sono state però sono incluse in questo conto gli eventi del marchio del patrimonio europeo gli eventi italiani e gli eventi di Europa per i cittadini che abbiamo deciso dal principio che di default avrebbero avuto il marchio e si sarebbero dedicate ai temi dell'anno europeo abbiamo una stima molto approssimativa del numero dei partecipanti fatta con l'aiuto di ALES che è la società in house del ministero che ha avuto la responsabilità ha avuto un contratto per la gestione della nostra comunicazione il numero totale dei partecipanti in Italia è probabilmente una stima ottimista ma si aggira sui 2 milioni 600 mila si basa sulle 301 iniziative quindi sul 22% delle iniziative che hanno segnalato il numero dei partecipanti è stata fatta una richiesta a tutte le iniziative il 20% ha risposto dando il numero dei partecipanti su questa base si è data una stima confrontando questa stima con quella fatta a monte al momento della candidatura dell'iniziativa momento in cui si richiedeva di dire qual è la tipologia di pubblico cui vi rivolgete e che partecipazione prevedete questa stima diciamo a monte arriva a 1 milione 120 mila stiamo un po' comparando carote e fagioli non sono due stime che alla presenza di esperti di statistica non hanno alcuna consistenza scientifica però ci danno l'idea che il successo sia stato maggiore di quanto preventivato può essere utile confrontare i dati italiani con i dati europei che si sviluppano su 27 paesi il dato complessivo europeo parla di 23 mila eventi per un insieme di 12,8 milioni di partecipanti quindi tutto sommato anche se le nostre sono stime approssimative e probabilmente anche le loro siamo stati molto attivi insomma siamo un grande paese in termini numerici però insomma siamo anche un grande paese quando si tratta di rispondere a sollecitazioni culturali un ulteriore impegno che dal punto di vista amministrativo non si è concluso ed è stato veramente impegnativo è stato il milione di euro che ci è stato assegnato per le attività dell'anno europeo dalla finanziaria 2018 in base a questo finanziamento si sono fatti dei bandi per l'assegnazione di contributi per i progetti che avessero ricevuto l'assegnazione del logo del marchio dell'anno europeo abbiamo ricevuto circa 500 richieste di finanziamento quasi 200 sono state accettate quindi anche qui fatti conti con i fondi disponibili c'è stata una certa inclusività si è deciso a monte di ridurre il contributo per allargare la platea delle iniziative però la rendicontazione richiesta è stata abbastanza impegnativa quindi un buon numero di iniziative alla fine hanno preferito rinunciare al contributo piuttosto che rendicontare secondo le nostre regole però le regole noi non le regole ci sono date non le abbiamo fissate appositamente però per qualcuno dipende un po' dalle dimensioni dell'ente comunque insomma questo processo è ancora in corso insomma soprattutto l'erogazione dei contributi è ancora in corso e se si guarda l'andamento cronologico delle domande per la concessione del logo si vede come queste si impennano nel momento in cui era prossimo alla scadenza il balzo di finanziamento quindi è una strana coincidenza di cui non immaginiamo il nesso abbiamo sempre con tramite questo contratto con Ales abbiamo allestito un sito web che ha dato le informazioni essenziali sull'andamento dell'anno a livello europeo ma che ha dato visibilità alle iniziative che consentiva di proporre naturalmente ai propri eventi e ha dato visibilità alle iniziative che hanno avuto il marchio dell'anno europeo e quindi sono state incluse nel calendario questo sito consentiva di interrogare le iniziative che sono state ridescritte da una persona con una competenza specifica di interrogarlo per area tematica per regione in cui l'evento avesse avuto luogo per tipologia di pubblico e attraverso alcuni altri criteri e questo ci consente adesso di estrarre dei dati veramente interessanti la cosa che ci ha fatto saltare sulla sedia e ci è tanto piaciuta quando l'abbiamo vista è che il tema che sembra essere stato il più gettonato non lo volevo dire il più amato il più prescelto quello a cui sono stati destinati la maggior parte degli eventi è stato economia e società quindi il patrimonio culturale per l'economia e per la società anche qui mettiamo insieme categorie diverse però considerato che il primo obiettivo generale della decisione era far emergere il contributo del patrimonio culturale alla società e all'economia non siamo andati male poi seguito questo da ah no qui scusate ho sbagliato slide perché qui non riesco a leggerla queste erano le aree tematiche e andavo a memoria quindi economia e società seguiti da storia archeologia spettacolo monumenti e paesaggio qui non riesco proprio a leggere però beh questi diciamo tutte e due tutte le iniziative candidate come distribuzione geografica appunto è stata abbastanza omogenea tenuto conto poi degli abitanti del numero di istituzioni in ciascuna regione con una leggera prevalenza di iniziative naturalmente nella capitale e dintorni e abbiamo registrato anche una certa omogeneità nella distribuzione delle iniziative aggregandole per nord centro e sud con qualche numero più basso al sud anche lì in ragione poi del numero di istituzioni di abitanti però diciamo la distribuzione dell'interesse è abbastanza omogenea fin qui abbiamo parlato della descrizione che è stata fatta da una professionista sulla base delle indicazioni ricevute al momento della presentazione della candidatura questi invece sono i tipi di attività così come richiesti dalla commissione europea al momento della descrizione delle iniziative a cui assegnare l'anno europeo e il logo dell'anno europeo anche qui abbiamo al primo posto cultural event che vuol dire tutto niente insomma evento culturale abbiamo un gran numero di conferenze seminari eventi eccetera però abbiamo tanti workshop e iniziative formative abbiamo mostre festival visite guidate e scambi di buone pratiche ricerca iniziative formative e alcuni progetti digitali pochi studi ma qualcuno è stato anche candidato anche i destinatari cioè il pubblico dell'elezione di queste iniziative è abbastanza ampio tutte le categorie di pubblico sono state coperte naturalmente con una prevalenza del pubblico generale molte iniziative dedicate ai giovani ai bambini ma molte anche agli anziani è un buon numero il 16% ai professionisti quindi diciamo c'è stata una distribuzione abbastanza omogenea dei diversi tipi di pubblico almeno nelle intenzioni di chi ha organizzato le iniziative circa il 44% delle iniziative candidate a ricevere il logo dell'anno europeo sono state sviluppate appositamente per quell'anno oltre la metà erano iniziative in continuazione che però nell'anno nel 2018 hanno dedicato un focus particolare ai temi dell'anno europeo di questo 44,51% il 60% intenta proseguire oltre il 2018 anche questo è un dato che preso così ci sembra incoraggiante però faccio ammenda di fronte a chi esperto tanto di statistica che di contenuti insomma le intenzioni non sono sempre quello che poi realmente avviene abbiamo alcune statistiche per il sito dell'anno europeo abbiamo avuto dei picchi di consultazione del sito che si attestavano intorno ai 60, 70, 75 mila visitatori ma anche questi in occasione delle scadenze dei bandi di finanziamento altrimenti viaggiamo fra i 30 e i 50 mila al mese a gennaio non c'è nulla perché il sito non era ancora online e abbiamo visite naturalmente per la stragrande maggioranza dell'Italia molte visite da paesi europei però un certo numero di contatti vengono dagli Stati Uniti dalla Federazione Russa Canada Brasile Cina India ci hanno detto che il sistema dovrebbe escludere diciamo gli spai insomma questi meccanismi automatici che non mi ricordo più come si chiamano che comunque controllano i siti quindi dovrebbero essere visite reali insomma la distribuzione sui giorni della settimana include tanto il weekend che i giorni feriali quindi c'è chi andava sul sito dell'anno europeo probabilmente per diletto che lavorava nel fine settimana questo non lo sappiamo un'altra informazione riguarda età e sesso degli utenti questa informazione è stata dedotta sempre con strumenti tecnologici da l'ESPA non è un dato che a noi è stato fornito però anche qui abbiamo una maggioranza di donne che più o meno riflette quello che avviene nel mondo della cultura molti utenti nella fascia tra i 20 e i 30 anni 25 e 44 per la precisione sono le fasce più frequentate però abbiamo utenti anche più giovani e più anziani quindi anche qui è stato abbastanza inclusivo i dispositivi adottati per consultare il sito sono stati dispositivi mobili per oltre la metà computer tradizionali per poco meno della metà e tablet solo per il 3% con una certa sovrapposizione di queste utenze abbiamo registrato oltre mille link al nostro sito fatti da siti esterni alcuni noti altri meno noti questo è un dato che ci ha chiesto la commissione che quindi abbiamo dovuto verificare anche il sito principale dei beni culturali ha dedicato una pagina all'anno europeo che è stata visibile nella pagina d'entrata nella home page per moltissimo tempo in realtà è stata tolta solo dopo che l'anno europeo era finito da un po' di tempo e anche qui registriamo 34.000 accessi e altri siti web istituzionali hanno dedicato pagine all'anno europeo dal dipartimento per le politiche europee della presidenza del consiglio a varie regioni o in mente senza altro la regione Emilia-Romagna fondazioni enti pubblici e privati eccetera quindi diciamo c'è stato un po' di movimento non cifre enormi ma significative tramite sempre la collaborazione di Alice il Ministero per i beni culturali ha pubblicato 139 post su Facebook che hanno registrato oltre 1.200.000 visualizzazioni e 35.000 interazioni e ha pubblicato 48 tweet che pure hanno registrato quasi 400.000 visualizzazioni e prodotto 6.000 interazioni per pubblicizzare l'anno europeo insieme con l'hashtag adottato dalla commissione Europe for Culture che lì per lì ci è sembrato bizzarro perché non parlava di patrimonio culturale non parlava di 2018 ma in realtà è stato molto lungimirante perché lo possiamo continuare ad usare no non si putta niente soprattutto adesso ci serve abbiamo adottato noi a livello italiano un hashtag patrimonio 2018 che fra parentesi hanno usato anche gli svizzeri di lingua italiana e che abbiamo usato molto spesso insieme ad un altro hashtag che se avete un po' navigato nei vari post dedicati nei social media all'anno del patrimonio probabilmente avrete incrociato che è sharing heritage a questo proposito io se posso ancora vorrei dire ce l'ho un po' di tempo 5 minuti ok con le slide ho quasi finito mi piaceva dire un paio di cose subito do allora esiste un gruppo di esperti molto informale che si chiama gruppo di riflessione Unione Europea patrimonio culturale questo gruppo esiste dal 2010 quando la presidenza belga dell'Unione Europea constatò il fatto che c'era assoluto bisogno di un coordinamento trasversale e di fare lobby alle spalle di chi andava sui tavoli europei per cercare di portare avanti il tema del patrimonio culturale questo gruppo di riflessione ha maturato l'idea grazie alla componente tedesca appunto di poter indire un anno europeo del patrimonio culturale perché si erano verificate una serie di eventi politici eccetera che non stiamo a ricordare perché non abbiamo tempo che facevano pensare che i tempi fossero maturi dopo l'inclusione di questo riferimento all'anno europeo nelle conclusioni adottate sotto presidenza italiana i colleghi tedeschi hanno convocato un sottogruppo di questo gruppo europeo di riflessione per poter elaborare i temi dell'anno europeo producendo una sorta di input paper un concept paper chiamato sharing heritage che è stato lo slogan tedesco ma poi è diventato è diventato lo slogan tedesco perché la commissione non l'ha adottato fondamentalmente però in pectore era per noi lo slogan dell'anno europeo del patrimonio culturale ed è rimasto legato a una serie di concetti espressi in quel paper e uno che vorrei ricordare qui e poi torno ai dati è proprio allora era l'attenzione al mettere in connessione il patrimonio culturale con i cambiamenti demografici in Europa quindi l'inclusività eccetera è un concetto che ci portiamo dietro è il fatto che il patrimonio culturale è locale ed europeo è europeo perché è locale e questa cosa secondo me è molto importante da comprendere non esiste una contrapposizione in Europa il cardine della politica culturale è la protezione la promozione della diversità quindi quello che ci accomuna è che noi valorizziamo la diversità e pertanto il patrimonio anche di un altro in qualche modo ci riguarda perché il patrimonio come dire rende visibili interazioni e scambi che hanno avuto luogo nel tempo e comunque la diversità ciò che è altro da noi ci arricchisce comunque e questo è un concetto che non andava bene per un documento politico della commissione a cui però noi teniamo molto insomma anche perché risolve una serie di problemi di contrasti di valori intorno al patrimonio eccetera comunque e quindi insomma questo è il background di questo hashtag sharing heritage che vedrete spesso ma che non si capisce bene non subito si capisce che cosa significa insomma e andando ai social media ancora parte della campagna di comunicazione sono state 53 video interviste a protagonisti della NURBEO e a visitatori che sono state pubblicate online che sono state pubblicate online alla fine del 2018 che hanno registrato 4.000 visualizzazioni nel primo mese di messa online poi abbiamo smesso di contarle e alcune di queste sono degli star item come per esempio l'intervista alla dottoressa Porro allora direttore del museo nazionale romano ripubblicato sul sito del MIBACT che ha totalizzato oltre 10.000 visualizzazioni e quindi è stato molto richiesto molto consultato ma ci sono tanti video interessanti anche altri un po' meno insomma significativi un'altra cosa che è stata chiesta agli organizzatori delle iniziative a valle del loro evento è stato quali canali avessero usato per promuovere le iniziative da loro organizzate e qui troviamo in testa i social media seguiti poi dalla stampa dal sito web e da strumenti tradizionali come le brochure anche noi abbiamo tramite sempre ALES prodotto una newsletter mensile con informazioni sull'anno europeo e sugli eventi italiani abbiamo avuto 1612 sottoscrittori nel report pubblicato dalla commissione europea un report un pochino troppo scarno ma che insomma è uscito a fine ottobre 2019 riportando i dati complessivi i risultati complessivi dell'anno europeo l'Unione europea riferisce che la loro newsletter bimestrale ha raggiunto 8.000 persone e che l'Italia è stato uno dei maggiori cioè gli italiani sono stati fra i maggiori sottoscrittori però la newsletter dell'Unione europea della commissione in realtà ha raggiunto 8.000 persone noi da soli ne avevamo 1.600 quindi anche lì non siamo messi malissimo abbiamo raccolto una rassegna stampa grazie all'ufficio stampa del ministero e abbiamo contato almeno 300 articoli sulla stampa nazionale che hanno fatto riferimento all'anno europeo ho promosso le iniziative e molti articoli sul Sole 24 Ore l'evento è stato coperto sistematicamente da G.Cult ma insomma anche altre a stampa nazionale la RAI è stato media partner dell'anno europeo ha dedicato varie trasmissioni di RAI Cultura RAI Parlamento RAI Storia eccetera ma anche le meraviglie alla penisola dei tesori in qualche modo si iscrive in questa pubblicizzazione del patrimonio culturale durante l'anno europeo e qui io potrei anche chiudere potrei dire che l'evento di apertura dell'anno europeo si è svolto a Milano come un importante conoscimento ecco e anche qui la commissione dà delle statistiche sull'interazione che insomma sono stellari e un altro importante evento già ricordato dall'onorevole Costa la conferenza finale Cherishing Heritage si è svolta a Venezia l'ultimissima cosa che voglio dire ma proprio l'ultima è che noi parliamo dell'Unione Europea perché è quella che ha il potere di fare le cose ai fondi agli strumenti politici ma anche il Consiglio d'Europa è stato molto attivo tanto nel costruire una comprensione comune europea del patrimonio culturale a monte dell'Unione che fino al 2007 sostanzialmente ha fatto poco quanto nel continuare a portare avanti i principi e valori e gestisce per esempio la giornata europea del patrimonio quindi anche dal punto di vista operativo è molto attivo e durante l'anno europeo si è svolto un workshop del Consiglio d'Europa sull'educazione al paesaggio proprio in Italia a Tropea e quindi anche questo è stato un importante anno un importante evento dell'anno europeo svoltosi in Italia io vi ringrazio tantissimo spero ci saranno altre opportunità e resta a disposizione grazie ci prenderemo molto volentieri anche la tua presentazione perché ti abbiamo costretto a correre allora strappato dalle 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 fauci delle ferrovie dei treni Italia vi restituisco Alessandro Pollo che dirige il Polo del Novecento e che porta un punto di vista estremamente interessante e l'ha portato anche nel numero di questa rivista che è quello degli archivi spesso meno vistosi dei monumenti o dei musei e meno vistosi dell'audiovisivo ma strumento fondamentale e ce lo racconterà lui sicuramente grazie per intanto grazie grazie per l'invito grazie economia della cultura alla fondazione scusate appunto il ritardo ma come dire è stato un Torino-Roma più accidentato della media questo quindi non insomma è andata così intanto sono state molto interessanti questi risultati che ha presentato Giuliana mi faceva anche molto piacere quel fatto che di questi 1300 passa progetti ce ne fosse una buona fetta pensata anche per i giovani perché di questo poi in particolare vorrei parlare cioè il rapporto tra patrimonio culturale nuovi pubblici e in particolare le nuove generazioni il Polo del Novecento è stato uno dei soggetti che ha partecipato con uno dei 1365 progetti nell'anno europeo del patrimonio non voglio parlare di quel progetto semmai riprenderò alcuni elementi nel numero nel volume di economia della cultura in realtà è spiegato bene che è un progetto che ha a che fare con l'innovazione tecnologica e gli archivi pensata in una logica di digital humanities per coinvolgere pubblici nuovi per coinvolgere i ragazzi le scuole gli insegnanti però come dire vorrei fare a monte due ragionamenti anche un po' stimolato dalle cose che diceva Silvia Costa prima nel sito c'era se non so se c'è ancora una specie di motto dove diceva il nostro patrimonio due punti dove il passato incontro il futuro allora questa cosa qui io la trovo un punto molto importante perché da un lato può essere una classica frase un po' retorica messa lì insomma perché tutto sommato il passato è una chiave interpretativa del futuro però direi che questo secondo me è proprio un punto nodale un punto nodale perché una delle finalità dell'anno europeo era proprio quello di intanto coinvolgere incoraggiare il maggior numero possibile di persone lasciandole in qualche modo si sente? devo fare spostare così e quindi coinvolgere il maggior numero di persone possibile affinché attraverso questo coinvolgimento col patrimonio si rafforzasse il loro senso di appartenenza ad uno spazio anche europeo e quindi soprattutto per i pubblici e pubblici che magari non hanno un rapporto usuale con il patrimonio diventa molto importante essere in grado di far riconoscere in questo patrimonio contestualizzarlo metterlo in un sistema di lettura in cui tu possa evidenziarne sia gli elementi di continuità e di comunanza come tu dicevi ma anche il potenziale di dissonanza e divergenza quando parliamo di prima guerra mondiale quando parliamo di patrimonio rimosso ovviamente quelli sono i grandi temi su cui poi si costruisce anche una logica dialogica e realmente inclusiva se la vogliamo progettare quindi solo così il patrimonio può essere utilizzato e sentito come proprio e quindi anche curato è il termine della cura secondo me e la parola cura è la parola che più vorrei associare al tema del patrimonio per l'anno 2018 proprio perché il tema era anche se ho capito bene dal punto di vista comunicativo di creare una specie di spostamento semantico dell'idea di patrimonio come qualcosa di statico di lontano che non fa per me a qualcosa di dinamico e in qualche modo relativo alle attività e al mondo in cui si vive allora se questa cosa qua è come dire importante il tema rapporto tra passato e futuro se lo contestualizziamo ad esempio ai ragazzi dobbiamo fare un ragionamento io di questa cosa me ne sono come dire convinto empiricamente in questi tre anni in cui ho lavorato molto con i giovani su questa analisa penso che sia la massima esperta casomai tu correggimi se sbaglio però la mia esperienza è stata questa c'è una differenza enorme tra i millennials e la generazione Z rispetto al tema del patrimonio cioè la generazione Z quindi la generazione successiva ai millennials da anni 90 in poi per capirci fino a 2010 allora per loro la frase dove il patrimonio incontra il futuro assume un senso totalmente relativo perché per la generazione Z come dire vale quella sindrome di come dire di presentizzazione presentizzazione del tempo che come dire produce un effetto molto particolare una tracimazione della dimensione del presente che da un lato ricaccia il passato in una dimensione in cui diventa difficilissimo ad esempio periodizzare gli eventi che una cosa sia nel novecento nell'ottocento nel cinquecento fa poca differenza è difficile per i ragazzi collocare un evento storico e quindi c'è un tema di incapacità di dare una profondità al proprio passato e allo stesso tempo per i giovani in questo presente continuo e ubiquo si sentono sempre meno titolati a pensare al proprio futuro allora come dire questa dimensione di un presente ubiquo e dominante in realtà pone un enorme problema che è un problema di natura politica ovvero come ridare la possibilità di progettare il proprio futuro a delle persone che abbiano bisogno di nutrire però quella visione con una lettura che in qualche modo faccia i conti anche con il proprio passato allora qui dal mio punto di vista interviene in modo interessante il patrimonio perché se è vera quella roba lì che il patrimonio è il punto non tanto dove il passato incontra il futuro ma dove il passato può aiutarti a progettare il futuro allora la sfida è proprio questa cioè costruire un sistema di progettazione di mediazione fatto da politiche programmi e progetti in cui le nuove generazioni possano utilizzare il passato come dispositivo di interpretazione del presente e come modalità di progettazione del futuro che è una roba come dire complicatissima ma io penso che come sistema paese come dire Unione Europea quella sia la grande sfida che non sia solo appunto quella di ragionare in termini di inclusività in senso come dire generale perché allora l'altra cosa è che il patrimonio e la cultura di prese non sono inclusiva in automatico anzi il patrimonio e la cultura se come dire non lo inserisci in un sistema di visione politica in cui l'ampliamento della cultura è un obiettivo la cultura diventa selettiva esclusiva non inclusiva perché voglio dire abbiamo come dire tanti anni e tante esperienze in cui questo è avvenuto allora l'anno europeo è anche come dire l'input che deve dirci come costruire una cultura davvero inclusiva qui secondo me quello che avete detto è molto importante cioè c'è un tema come dire in cui l'innovazione deve usare il patrimonio perché il patrimonio sono le nostre radici ma il patrimonio deve anche essere interpretato come quel software che è in grado appunto di attivare quei meccanismi di pensiero rispetto ad un futuro che è un futuro sociale economico e culturale allora perché gli archivi perché guardate gli archivi che di nuovo anche qui nella loro retorica nel loro immaginario soprattutto un immaginario comune hanno un riatto più forte tra una percezione di qualcosa di statico lontano sedimentato polveroso nel sottoscale guanti bianchi in realtà gli archivi invece sono di nuovo in quella come dire in quella prospettiva che proponevo un fantastico dispositivo di come dire interrogazione del presente e come dire di costruzione di senso rispetto alle sfide dell'oggi soprattutto anche se lo utilizziamo non solo per gli addetti lavori per i ricercatori per gli storici ovviamente gli archivi servono a quello ma ad esempio se facciamo in modo che gli archivi diventino un semilavorato per gli insegnanti per i docenti per chi vuole ricostruire delle storie per chi vuole ad esempio costruire nuovi immaginari artistici e culturali una delle cose che facciamo al polo del novecento è quella di dire ai videomaker ai registi agli attori agli insegnanti ai docenti ai scienziati ai climatologi ai medici guardate che il patrimonio del novecento ha a che fare anche con voi ma a che fare con voi non solo nella ricostruzione di un vostro interesse storico ha a che fare con voi nella vostra capacità di produrre nuova cultura partendo da quel tipo di contenuto allora lì mi interessa la tecnologia la tecnologia non in una logica finalistica perché se c'è stato penso un errore che noi abbiamo fatto come sistema culturale e gli ultimi 20-30-40 anni sono la testimonianza di più fallimenti che successi nel rapporto tra cultura e tecnologia e che molto spesso la sperimentazione tecnologica era technology driven cioè risolveva un problema digitale ma non un problema dell'uomo i nostri problemi dell'uomo sono quelli di cui parlavo prima e il punto è come la tecnologia ci aiuta a risolvere questi bisogni e a cogliere queste opportunità ovviamente non c'è una soluzione ma c'è un'attitudine c'è un approccio noi ad esempio come racconto nel nostro caso utilizziamo l'intelligenza artificiale ma fatta in un modo in cui mettiamo insieme dei gruppi interdisciplinari in cui abbiamo dei filosofi degli artisti degli ingegneri ovviamente di intelligenza artificiale degli hacker che si pongono alcune domande di base la domanda molto semplice era come facciamo ad avvicinare una persona ad un archivio soprattutto se questa persona non ha la più pallida idea di come funziona una struttura archivistica fatta con i fondi sottofondi le strutture allora in questo caso l'intelligenza artificiale aiuta ad esempio a delle connessioni di senso che possono avvicinare una persona che non si è mai avvicinata ad un archivio partendo da concetti partendo da forme partendo da colori in una logica anche partecipata in cui ad esempio una cosa che abbiamo fatto perlomeno a me ha colpito molto abbiamo fatto dei workshop con dei bambini e dei ragazzi in cui erano i ragazzi che allenavano l'intelligenza artificiale cioè i ragazzi che dovevano dare all'intelligenza artificiale degli input per capire ad esempio come era fatto un cavallo un bambino che deve spiegare ad un'intelligenza artificiale come ha fatto un cavallo perché l'intelligenza artificiale dentro i nostri archivi 9 km di archivi 300.000 oggetti che sono digitalizzati con la prospettiva del bambino risemantizza delle categorie di senso di quell'archivio in cui ovviamente il concetto e la parola cavallo viene collocata in una tessonomia che esattamente o è lontanissima rispetto a quella che potrebbe ricercare un bambino di 8 anni però questo è il grande punto perché poi ragionare su quello ti consente di ragionare sulle competenze e sulla creatività l'altro grande come dire il tema e poi mi taccio che vedo interessante e nel rapporto se ne parla anche ovviamente l'utilizzo delle tecnologie ma l'utilizzo anche del gioco del gaming in questi giorni ad esempio stiamo realizzando un escape room escape room sapete che è quella roba che deve stare un'ora un'ora in un posto a risolvere degli enigmi e uscire da quella stanza abbiamo proprio collocato un escape room nei nostri archivi quindi non vi dico dal punto di vista della sicurezza che cosa ha voluto dire questa cosa però il senso era questo noi abbiamo fatto un progetto che è durato un anno sulla caduta del muro di Berlino 30 anni della caduta del muro il tema era il muro di ieri e il muro di oggi allora l'escape room è stata fatta coinvolgendo un'impresa creativa una start up di Milano che è molto esperta in game design ma sono degli esperti di game design che hanno nel loro gruppo di lavoro degli storici dell'arte e degli storici hanno lavorato un anno sugli archivi del museo della stasi di Berlino e sugli archivi del museo del polo del novecento per fare un escape room a sfondo storico che riprendesse i temi della stasi quindi qui vai lì ai nove profili psicologici devi dare una valutazione di non conformità o di non conformità sui profili per vedere se quella persona può muoversi da Berlino Est a Berlino Ovest lavorando su materiali di archivi quindi sollecitata su dei contenuti e allora potete immaginarvi su un ragazzo di 17-18 anni quel tipo di approccio quel tipo di coinvolgimento in realtà attiva dei meccanismi di pensiero di relazione in cui persone che non sapevano che cosa fosse la stasi che fosse l'atmosfera degli anni 80 o 70 in Germania in realtà poi produce delle domande e quelle domande si trasformano in una proposta di risposta perché magari gli dici guarda che al piano di sopra c'è una biblioteca e ci sono un sacco di libri su quel tema guarda che negli stessi giorni stiamo facendo una serie di conferenze guarda che questa sera questa sera proprio ci sono due spettacoli di teatro sul teatro del dissenso allora queste sono le connessioni di senso che tu puoi costruire se vuoi coinvolgere dei ragazzi in cui di nuovo il patrimonio possa diventare quella possibilità in cui il passato diventa una chiave di interpretazione del tuo presente perché ovviamente il muro che è caduto nel 1989 non può non confrontarsi col fatto che in 30 anni sono nati altri 65 muri allora quello poi è come dire lo shift mentale quindi mi pare che vado a concludere una delle grandi come dire opportunità che ha aperto l'anno europeo del patrimonio e che mi piacerebbe che nella sua legacy potesse essere ripreso a livello politico e progettuale è proprio questa cosa qua aiutare le istituzioni a darci strumenti progettazione e contenuti perché il passato diventi effettivamente dispositivo di senso per il futuro soprattutto per quel tipo di generazione grazie grazie